Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, domenica 4 agosto. Allora, questa mattina mi sono svegliato qua in Asia, in questo posto straordinario, e che cosa ho letto? Ho letto il primo pezzo, quello di Maurizio Molinari, della stampa, perché la stampa verso le due di notte, locali, italiane, si riesce a vedere anche qua in Asia. Quindi Maurizio Molinari ci fa un grande pezzo che quasi ti convince, cioè gli estremismi, gli opposti estremismi, quelli della destra, sovranista, razzista, lepenista, salviniana, che portano ad un'altra opposizione che quella dell'estrema sinistra, che si oppone appunto a questa estrema destra. Il tutto che cosa fa? Per smontare lo Stato di diritto. Poi dopo ti leggi anche l'avvenire. L'avvenire è stato dedicato oggi, il fondo dell'avvenire del manifesto catto comunista, che devo dire è il punto di riferimento per i catti comunisti di tutto il mondo. No? Diciamo? Beh, tu ti leggi sull'avvenire, poi l'intervista, non l'intervista, l'editoriale dedicato a un giornalista di colore, che dice, beh, insomma, io ve la dico esattamente la frase perché non vorrei sbagliare, la frase che dice esattamente, questo non è il paese in cui vorrei vedere crescere i miei figli. Sono un italiano di colore preoccupato dal clima di intolleranza alimentato da questo governo. Quindi sarebbe questo governo ad aver alimentato un clima di intolleranza per il quale lui non vuol vedere crescere i suoi figli qua in Italia. Si chiama Matteo Fraschini Coffi. Poi dopo leggi queste cose e dici, beh, ma forse questo Salvini che sta al papete a torso nudo, che obiettivamente non è un'immagine tra le più gradevoli che si possono immaginare, sta portando a una deriva tremenda come quella che ci fu prima della, come si chiama, prima della Seconda Guerra Mondiale. Quindi ci convinciamo che hanno ragione Molinari, hanno ragione tutti quegli italiani che pensano che la benda sia un gesto tremendo nei confronti dell'America, quella sì, liberale. Anzi no, neanche l'America è liberale perché c'è Trump. Quindi soltanto i nostri giornalisti sono rimasti i baluardi del garantismo e della libertà in tutto il mondo, mentre tutto il mondo sta andando in un'altra parte. Quindi può essere che siano tra i pochi, come avvenne probabilmente durante il nazismo, che alzavano il ditino e dicevano, beh, forse non avete ragione. Può essere che siano tra i pochi, furono mi sembra tre o quattro, quei professori universitari che non firmarono, che firmarono, diciamo, per rimanere all'università e non si andarono dall'università dopo le leggi razziali. Insomma, pensiamo che siano una minoranza i Molinari l'avvenire. Poi dopo però, sempre sulla stampa, vediamo l'intervista dell'inviato di punta, Zatterin, quello che l'altro giorno ci spiegava che Ursula faceva bene a chiedere i commissari in funzione del loro genere, non della loro intelligenza, non della loro capacità, ma se femmine o nuomini. E Zatterin che cosa ti fa oggi? Zatterin intervista Campo dell'Orto. Allora capisci tutto. Noi abbiamo ragione e voi siete delle pippe. Zatterin, dopo due anni e mezzo, prende Campo dell'Orto, una specie di Minus Abens, quello che ha distrutto, da un punto di vista contenutistico, la RAI, ha fatto fuori venti dirigenti, ha assunto solo i suoi amichetti, ha fatto fuori tutti i trasmissioni politiche che erano contro la sua idea, e quella di quel magnifico mondo renziano, e ti intervista Zatterin, cosa sarà il futuro della televisione italiana. Zatterin, quello non sa neanche cosa è il futuro della televisione, è casa sua, come si accende la televisione. Campo dell'Orto è quello che ha fatto il contratto a fazio da milioni di euro, chiudendo il contratto nella scuola elementare di Fazio a Milano, è quello che ha fatto fuori i programmi televisivi, e voi state zitti, muti, perché all'Erco non c'era un problema di stato di diritto quando c'era Renzi, non c'erano tutti questi problemi, quello è stato il periodo in cui noi dicevamo accoglieteli tutti, fate venire tutti quanti, non c'è nessun problema, tanto ci siamo noi, c'è il professor Bartolo, c'è Renzi, ci sono Benigni che accogliono milioni di persone. All'epoca non c'era un'emergenza, oggi non c'è un'emergenza, ma anche all'epoca quando arrivavano 200.000 persone non c'era un'emergenza, cazzoni! Se ci fosse stata un'emergenza, se vi fosse occupati ieri della RAI, se aveste visto veramente cosa succedeva ieri, oggi non avremmo avuto Salvini, vi è chiaro? Vi passa per il cervello che se Campo d'Allorto, il detto Conte Mascetti, un'intervista in cui non si capisce assolutamente un cazzo, se non che la sua ideona, sapete qual è? Per battere Google, per battere Facebook, bisogna che RAI, Mediaset della Sette, si uniscano e che comandi la RAI. Questa è l'idea di Campo d'Allorto. Allora, quando uno gli è fatto fare, il presidente della RAI, il direttore generale della RAI, gli è fatto fare tutte le minchiate che ha fatto lui, ha fatto chiudere anche qualche programma come il mio, senza che nessuno se ne occupasse, e lo intervisti come se fosse un santo, zitto e muto, allora capisci che sono tutte stronzate e che questi politicamente corretti mi fanno orrore, come dice benissimo Alberoni oggi, non è con il politicamente corretto che risolve i problemi dell'umanità, ma crescendo, diventando tutti più ricchi, e allora c'hai ragione quando vedi i pezzi dei giornali cattivi, leggi la maglia, oggi un'intervista a Stato di Maglia dice la cultura, la televisione, l'educazione, sempre di questi quattro scappati di casa che ci stanno cercando di far pensare che l'Italia sia un paese dominato dai razzisti. No, l'Italia si sta liberando dei Campo d'Allorto, cioè da quei palloni gonfiati di scuregge, questo è, palloni gonfiati, scusate la volgarità, di puzza, che ci spiegano dove va il mondo, dove va Google, non ha gestito la RAI e sarà dove gestire il mondo, allora capisci lo Stato di diritto, no, non sta cambiando lo Stato di diritto, ci sta un grande cambio di management, direbbe qualcuno che parla bene, da quella roba là, caro Maurizio, ha un'altra roba che è eccessiva, è esagerata, non ci piace, anche a me quando vedo quelle immagini non penso che sia lì il luogo della politica italiana, ma se noi passiamo da Campo, preferisci Campo d'Allorto o quel giro là di Salvini, peggio di Salvini, ci sono dubbi? No, non c'è neanche un dubbio. Che altro succede nel mondo, a parte queste minchiate di cui vi ho parlato? C'è ragione, è molto divertente il pezzo di Sallusti che dicendo che Salvini e Di Maio litigano uno e stufo delle liti dell'altro, dice forse sono gli italiani che sono stufi delle vostre liti, questo è il fondo di Sallusti, oltre al fondo di Sallusti dal punto di vista della politica c'è una piccola intervista che è significativa, fatta da Bugani, uno dei geni che hanno fattorito questo Movimento 5 Stelle insieme a Grillo, un delinquente, un evasore fiscale, uno che ha ammazzato una persona in macchina, ma che comunque no, quando invece adesso questi Movimento 5 Stelle fanno i sofisticati, il loro leader è nato con il vaffancuro, i voti Di Maio li ha presi con il vaffancuro, il leader ha parlato dei giornalisti dieci volte peggio di quanto abbia fatto e ha fatto male, come si chiama Salvini rispetto al videomaker della Repubblica e questi stanno a fare i Bugani, i Bugani in realtà dice che è il motivo per il quale è stato fatto fuori da vice segretario, vice capo segreteria, pensate un po' voi, di Palazzo Ghici, gli pagavano uno stipendio, non so di quanto, gli hanno dimezzato lo stipendio, se ne va via perché dice ho fatto un'intervista al fatto in cui dicevo che Di Maio e come si chiama e Di Battista erano complementari e da lì mi hanno iniziato a far fuori, insomma sono piccoli squarci di questi piccoli poteri di ragazzini che si sono trovati finalmente uno stipendio in tasca, ritornerà a fare consigliere comunale a Bologna dove guadagnerà molto poco. Banda dello spray e l'altra questione fondamentale è stata pizzicata, una questione di cronaca che riguarda tre italiani, un tunisino, un marocchino e un altro italiano che facevano questo per professione, 37 colpi, bello oggi il pezzo di Nino Materi che dice sfera e basta, cioè il nulla che in realtà ha alcune sue responsabilità secondo alcuni genitori intervistati da Quotitano Nazionale, dal giornale ed altri giornali che dicevano insomma però i manager potevano rendersi conto di dove stavano organizzando la loro manifestazione. Che altro c'è di interessanti? Si dimette Bugani e tutti piangono, bello il pezzo della stampa oggi sui bagpackers quali vedo numerosissimi e l'altra idea favolosa di questa occidente ipocrita di merda in cui ci sono questi finti poveri occidentali che stanno qua con i cartelli dateci due lire perché vogliamo continuare il nostro viaggio in Ausga, non ve l'ha ordinato il dottore di fare un viaggio in Ausga o ve lo pagate come sto facendo io oppure se non ve lo sapete pagare rimanete a casa vostra e non romperete le balle l'aco queste birche fantastico leggetevi il pezzo della stampa ve lo consiglio leggete tre cose della stampa Molinari poi vi leggete Zatterin con Campo d'Allorto se lo riuscite a capire perché è una specie di esilarante con Temascetti e poi capite questa era la classe dirigente che ci guidava nel passato e questa è la classe dirigente che ci avrebbe dovuto salvare dal nazirazzismo con le loro politicamente correttezze alla Fazio e compagnia cantante fantastico Becchis a proposito di questo che titola oggi il tempo la sinistra manettara fino a ieri che oggi decide di stare con i delinquenti oltre tutti i tali come sono quelli che fanno le violenze dei centri sociali contro Carola che si permette di speronare una barca della Guardia di Finanza e violare le leggi italiane o contro la Zingara che vorrebbe uccidere Salvini e che comunque deve la sua casa come oggi si vede da qualche parte libero mi sembra soltanto ai suoi furti bellissimo oggi l'approfondimento di Feltri su Berlusconi sfruttato e abbandonato lui e Farina dicono una cosa sacrosanta che Berlusconi non faccia mai del bene a qualcuno per cui non è in grado di poterne sopportare l'ingratitudine molti ingrati nei confronti di Berlusconi che ha fatto da Vini alla moglie a Casini a Freccero alcuni dicono a Toti sempre nei pezzi di farina eccetera gli hanno fatto le fortune e poi l'hanno mollato Veneziani che non è stato certo un beneficiato da Berlusconi invece sul tempo di oggi dice invece di passare alla storia rischia di passare alla farsa la questione di Forza Italia Foti fa un'intervista il capo dell'avvenire a Zacchè sì dell'avvenire scusatemi di Fineco a Zacchè in cui non risolve l'unica questione vera di quella banca cioè che è passata da 12 euro a 9 euro perché i suoi 8,5 miliardi di bond unicredito che prima controllava Fineco e oggi non lo controlla più beh quei 8,5 miliardi quando andranno a scadenza saranno sostituiti con titoli molto più rischiosi rispetto e che assorbiranno molto più capitale rispetto a quei titoli ma vabbè lasciamo perdere bellissimo oggi se volete l'approfondimento su Truffo lo leggete l'autore dei 400 colpi lo leggete mi sembra sul Sole 24 Ore in cui si racconta dell'ultimo libro un libro che è uscito per Gallimar in cui si parla del Truffo critico cinematografico che mandava a fanculo tutti i suoi colleghi registi prima che mi sembra a 22-23 anni iniziato a scrivere devo dire che molto divertente sarà il libro di Gallimar che vorrò leggere essendo un grande amante di Truffo anche se noi di destra libri e giornali non ne leggeriamo vi do un grande saluto e vi do appuntamento come sempre anzi non so se ci riesco domani perché sarò in volo ciao ciao